Fine dell'attesa comincia il campionato. Il tempo di auspici, previsioni, ambizioni e buoni propositi terminerà domani pomeriggio alle 15, l'orario del fisco d'inizio su tutti i campi della Gironi H di Serie D. Sta per parlare il campo dunque, sta per partire. Un raggruppamento che ha perso rispetto alla passata stagione tre grandi protagoniste come Taranto, Fidelisandri e Picerno, ma ne ha tante altre di spessore e livello tecnico notevole ai nastri di partenza. In particolare il poker composto da Bitonto, Cerignola, Lavello e Casertana. La novità principale del Gironi H è rappresentata dal cambio di format non più 18 ma 20 le realtà presenti ai nastri di partenza di cui ben 11 pugliesi. Il Bitonto, che è partito in anticipo con la preparazione rispetto agli altri e che non ha mai nascosto l'ambizione di puntare al calcio professionistico, esordirà il Città degli Ulivi contro il Rotonda che ha salutato invece il Gironi per trasferirsi in quello delle Pugliesi e delle altre Lucane. Esordio sulla panchina dei Neroverdi per Claudio De Luca. Esordio su quella del Biceglia invece per Danilo Ruffini. Ieri la presentazione ufficiale della squadra, domani il battessimo in campionato per i Nerazzurro Stellati che affrontano al Ventura la Nocerina. Test subito attendibile per i Bicegliesi. Nessuna novità invece al timone del Molfetta. Confermatissimo Renato Bartoli. I biancorossi sfidano subito in trasferta una delle grandi favorite per la vittoria del campionato. Il lavello del neotecnico Adolfo Sormani. Allenatori entrambi nuovi invece per il derby tra Nardò e Tim Altamura di fronte. Sul neutro di copertino i Salentini hanno scelto l'esperienza di Salvatore Ciullo. I Murgiani si sono affidati alla grande voglia di emergere di un giovane come Luigi Pezzella. Derby di Puglia pure al vicino. Il gravina del duo Sum Ragone ospita il Casarano di Calabuig. Il Brindisi fresco di ripescaggio. Debutta invece sul campo del Francavilla in Sinni. Realtà da anni impegnata nel Giro Neacca. E ancora la matricola Virtus Matino comincia la propria avventura sul neutro di Parabita contro il San Giorgio. Programma completato da due derby campani. Casertana contro Nola e Marignanese contro Sorrento. Fischio d'inizio su tutti i campi. Previsto alle ore 15. e quali noi diciamo. Capitato commerciante. Libancio, Libancio, Voidaldon буде fondamentale. C'è la capitazione peragerare di un wireless con un' multimedial. Abito Predipしょ, in questo modo di passer suffering su un wohly attrappone